Operazione oggi a Roma per Shane Laval. Il lungo nigeriano sarà operato oggi dal professor Mariani. Il lungo nigeriano sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico all'attendine Rotulio. Il ragazzo è fermo da un anno ed attraverso questa operazione spera di potersi riprendere definitivamente. Ed è ovviamente anche la speranza della Sidigas che ha puntato su questo elemento che da febbraio dovrebbe tornare disponibile. L'idea della Scandona in questa operazione è duplice perché c'è l'intenzione di prevenire possibili infortuni con una polizza assicurativa ed avere la garanzia di inserire a campionato in corso un giocatore pronto e non da mettere al volo. Con Shane Laval, quando sarà disponibile, va a rinforzarsi anche un reparto che sembrava lasciare qualche perplessità. La presenza di Kirillofesenko, anche lui reduce da un infortunio, e quella di Indiaia è considerato quasi un ripiego più che una prima scelta, avevano mostrato delle perplessità. Ora, soprattutto se Laval dovesse tornare in campo nei tempi stabiliti e in condizioni ottimali, la Sidigas potrà davvero contare sul lunghi di altissimo profilo.